Un furgone con targa spagnola riempito con bombole di gas vicino al club e sala de concerto Massilo, ex sito industriale di Rotterdam. Lo hanno annunciato le autorità olandesi che hanno confermato il fermo del conducente. Per accertamenti il comune di Rotterdam ha annullato il concerto che si sarebbe dovuto tenere mercoledì sera e tutti gli altri eventi in programma. Si tratta di un'informazione fornita dalla polizia spagnola alla polizia nazionale di Rotterdam, ha detto il sindaco Ahmed Abutaleb. Nello specifico si trattava di un piano d'attacco durante il concerto di una band americana al Massilo. Il nome del gruppo è Alla Allas, un nome molto strano ma è solo una rock band. La segnalazione era assolutamente attendibile e dunque la polizia ha sentito gli organizzatori. I membri della band californiana sono stati trasportati in un luogo sicuro, l'area circostante è stata evacuata. Tutte misure di sicurezza preventive in attesa che l'indagine permetta di determinare la relazione tra il conducente del veicolo, il quale era in stato d'ebrezza al momento del fermo e la possibile minaccia terroristica.